Nelle prime ore di questa mattina la squadra mobile di Salerno su delega della Procura della Repubblica ha condotto una vasta operazione nei confronti di un'organizzazione criminale derita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, radicata su tutto il territorio di Salerno e provincia con ramificazioni anche nell'Interland napoletano. 45 le ordinanze di custodia cautelare emesse. L'attività di spaccio dell'organizzazione in questione non si è fermata durante il periodo del lockdown, anzi ha contribuito a foraggiare l'ambiente della criminalità nel periodo di limitazione della mobilità e della relativa riduzione della commissione di altre tipologie di reato. In particolare lo sviluppo dell'attività ha posto in evidenza l'esistenza di compagini criminali ben organizzate operanti a Salerno, capaci di riversare massicciamente cocaina, hashish, crack e marijuana su diversi quartieri della città e comuni limitrofi. Le attività investigative, anche mediante intercettazioni telefoniche e telematiche, hanno permesso di disvelare l'intera filiera del traffico di stupefacenti, a partire dai pusher fino ad arrivare ai rifornitori del narcotico e identificare i maggiori promotori dell'organizzazione criminale in Luca Franceschelli e Fabio Salzano, che con i loro sodali hanno rappresentato sul territorio salernitano uno dei più forti e stabili canali di approvvigionamento di sostanze stupefacenti di diverso tipo.